Un saluto a tutti e a tutte voi, eccoci in un nuovo cartotto educational da Morgé. Ci troviamo nella parte più settentrionale della Valle d'Aosta e proprio a Morgé abbiamo questa meraviglia, il parco lettura. Non perdetelo se avete bambini e ragazzi, ma venite anche da adulti perché ad esempio scoprirete tra le varie attrazioni questa che mi ha colpito molto, lo chiameremo storytelling, raccontare una storia scrittrice e scrittori in erba. Guardate, ci sono questi quattro simpatici animali colorati con quattro ruote, facendo girare le ruote e annotando quello che esce avremo un personaggio, un luogo, una azione, una immagine per comporre il nostro racconto. Guardiamo ad esempio. Allora, ecco qui, vediamo che personaggio esce in sorte a me. Ho un narratore e vediamo, giro la seconda ruota, un narratore in un nascondiglio. insomma, quattro ruote, abbiamo così l'innesco per raccontare una storia che poi è quello che dovremmo fare sia a scuola, quando appunto dobbiamo accendere la nostra fantasia, che perché no nella vita di tutti i giorni. Insomma, questa meraviglia a due passi dal massiccio del Monte Bianco ci aspetta e vi aspetta e ancora un caro saluto a tutti e a tutte voi e appuntamento al prossimo Cartotto Educational. Ciao!